La costante crescita del movimento pugilistico irpino passa soprattutto per gli atleti più giovani. Come già ampiamente annunciato nelle scorse settimane, in Irpigna nel mese di novembre ci saranno i campionati nazionali youth, ai quali, si spera, saliranno sul ring anche atleti della nostra provincia. A Caserta, infatti, in questi giorni si stanno svolgendo i campionati regionali. Nella serata di ieri, tutte e tre i pugili in gara sono riusciti a conquistare la fase successiva. Mattia Testa, 59 kg, School Boys appartenente all'Accademia Pugilistica Cardamone, grazie alla vittoria in semifinale ha avuto accesso alla finalissima. Stesso discorso per Nassim Bussad, union appartenente all'Irpinia Pro Ring di Sandro Frongillo, anche lui vincitore nel match di semifinale. Il figlio d'arte Simone Piccariello della contrata box ha invece battuto il suo avversario nei quarti di finale. I tre atleti irpini questa sera saliranno nuovamente sul ring per cercare di scalare un ulteriore gradino in vista dei campionati italiani di novembre. Il figlio d'arte Simone Piccariello della contrata box ha invece battuto il suo avversario.